Il valore della ceramica è un misto fra emozione e tocco, quindi un trade union fra il passato dell'alta artigianalità italiana e sassolese e il futuro digitale. Perdere la nostra anima sarebbe fondamentalmente snaturarci, quindi bisogna sempre cercare di unire il ricordo dei nostri passati successi del territorio con una tecnologia che ci porta verso il futuro. Invito i clienti a cercare di essere originali e di pensare che la ceramica comunque è emozione e quindi non è solo grafica.